Una buona giornata e ben ritrovati, oggi è l'udì 27 settembre, questa è FanoTV, la rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno che come di consueto vi tiene compagnia tutte le mattine alle 7 in diretta da lunedì al sabato sul canale 17, visibile in tutta la regione Marche sul digitale terrestre e anche sui cellulari, sui computer, sul sito occhioanotizia.it. Cominciamo dal santo del giorno, oggi è San Vincenzo de Paoli, sacerdote che a Parigi fece tanto soprattutto per i poveri. Il sole sorgerà, anzi sorge in questo momento alle 7.01, tramonterà alle 18.58 minuti. Adesso andiamo a vedere il tempo. Si farà fatica a vedere il sole sorgere questa mattina perché come vedete dalla grafica del sito della protezione civile delle Marche, oggi avremo durante le prime ore della giornata ancora rovescio temporale sparsi localmente di forte intensità con progressivo esaurimento dei fenomeni già dalla mattinata, a partire dai settori centro-settentrionali e residui piovaschi nel pomeriggio nel comparto meridionale. Per domani il tempo invece migliora con il cielo che sarà irregolarmente nuvoloso, con temperature di lieve aumento nei valori massimi, ancora un po' di vento moderato lungo la costa. Poi per la giornata, nei prossimi giorni insomma sarà discreto, nella giornata di giovedì ci sarà un miglioramento. Intanto no, discreto, insomma nei prossimi giorni sapremo sempre qualche possibilità di piovasco, poi migliorerà verso la fine della settimana. Allora adesso andiamo a leggere i giornali. Cominciamo come sempre dalla prima pagina del resto del Carlino. Il titolo, gli insegnanti e gli elunni ebrei esclusi dalle scuole a datare dal 16 ottobre. I giudici sono sospesi dall'esercizio della libera docenza e cessano di far parte delle accademie, degli istituti e delle associazioni culturali. No, scusate, forse ho sbagliato il giornale. Questo è qualche decennio fa però. Che è successo? Il titolo, vabbè, vabbè, non è che cambia di molto però, nel senso che il 16 ottobre, ma qua sarà il 15, dal 15 ottobre 4 milioni di persone, tra cui insegnanti, non potranno più andare a scuola, eccetera, quindi più o meno, però è capitato così, insomma, c'è finito questa vecchia prima pagina di qualche decennio fa. Non finì bene, eh, quella volta. Andiamo a vedere, invece, quello attuale. E qui ci consoliamo, perché abbiamo il trenino dei sogni, che bello. Allora, il trenino dei sogni, siamo tutti felici, dopo otto anni la locomotiva turistica torna sulla Pergola Fabriano. E questa è l'apertura del giornale di oggi. Poi i rifiuti, la battaglia della discarica, Fano non vuole che si allarghi quella di Monteschiantello. Oggi assemblea dei sindaci anche sul biodigestore. Poi c'è il problema del tempo, il maltempo. Il maltempo sia a Fano che a Pesaro, il temporale sferza la provincia, allagamenti e frane, sottopassi invasi dall'acqua. Allora, il caso, un caso che, insomma, è una notizia, perché padre, madre e figlia compiono gli anni lo stesso giorno. Il caso dei Binda a pagina 4 sul Carlino di oggi. Poi il rogo al camping, danni ingenti, la polizia caccia delle cause, torrette, area sequestrata. Poi sotto lo sport, sempre dalla prima del Carlino di Pesaro, Arbitro infortunato, il Fano deve rigiocare, perché l'arbitro dopo i primi 14 minuti, 11-14 minuti, insomma, si è fatto male a un polpaccio, ha avuto un risentimento al polpaccio e quindi a Pineto la gara è stata sospesa. Vuel, c'eravamo quasi, Sassari passa sul filo, i bianco-rossi sbagliano il tiro della vittoria. La pagina del Carlino di Ancona, invece, anche qui, tutti sui binari, il Lamarcord, il treno storico Fabriano Pergola, riparte dopo otto anni di stop. Lupi e cinghiali incontri ravvicinati, invece, dopo Torrette di Ancona, altro avvistamento con le marino, schianto tra un ungolato e un'auto a Varano. E poi la tragedia in alta quota, un escursionista, l'escursionista tradito da una roccia, la tua amata montagna stavolta ti ha girato le spalle. Andiamo a vedere, invece, il Corriere Adriatico di Pesero. L'ospedale a case bruciate, questo è il titolo d'apertura. L'orientamento della regione per minori costi e maggiore qualità edilizia. Presto l'incontro con il Sindaco Ricci, con la revoca del project financing e la trasformazione di Marche Nord, tre step per arrivare alla nuova sanità. A centro pagina i Sardi vincono 75-73 allo scadere. VL, la prima beffa, a Sassari. Poi di spalla, vaccinazioni nelle Marche, le due province, anzi, le province a due velocità. Vedremo, no, non lo vedremo perché non l'ho selezionata. Comunque ve lo dico, Macerata, Maglia Nera, Ancona, invece, è quella che svetta con il suo 77,7% di persone vaccinate. Poi al mare, invece, tutto l'anno a Pesero, però qui la spiaggia chiude, in Romagna si apre. Qualcuno dice non vale la pena perché ci sono troppi vandali. Vedremo tra poco. Carceri, la polizia protesta appeso a Villa Fastigi e si astiene dal servizio mensa. A Valefoglia, viaggio nel bunker del cecchino tedesco sulla linea gotica. Un nubifragio, invece, in provincia. Tragedia sfiorata alla fiera, allagamenti e rami rotti. 15 gli interventi dei Vigili del Fuoco. A Fossombrone, albero crollato, colpisce appena un ragazzo. Dunque sfiorata la tragedia a Fossombrone, dove questo albero ha colpito di striscio un ragazzo che era alla fiera. Poi gara a sospesa, come abbiamo visto, a Pineto per il Fano. Allora, andiamo nelle pagine interne. Cominciamo da Fano. Il Corriere Adriatico si abbatte in nubifragio su tutta la provincia. Albero crolla alla fiera, sfiorata la tragedia a Fossombrone, colpito livellamente un ragazzo che riporta le scorreazioni, paura tra i venditori e tra i clienti. Questa è l'immagine dell'albero caduto alla fiera di San Matteo. e la fuga degli ambulanti. Poi, allagamento a Lido, albero invece sulla 424. Allora, sull'allagamento a Lido dovremmo avere anche una fotografia. Intanto l'altro titolo, blackout e frane siligata chiusa. Il temporale ha provocato allagamenti a Lido di Fano in molte altre zone della provincia. E poi c'è stato anche un incidente sulla Pecchiese. I ragazzi alla guida invece di una Jeep invadono la corsia. Scontro contro una Ford, un 62enne, finisce all'ospedale. Queste sono le varie notizie di cronaca. Ma, come vedete, ecco, noi tra i vari reporter che ieri ci hanno inviato alcune fotografie sulla situazione del maltempo, questa ieri sera a Lido di Fano dove la situazione è sempre la stessa. Cioè, appena piove, certamente in modo abbondante, come è successo ieri, tutto in una volta, si allaga il sottopasso del Lido. Qui sembra davvero un fiume in piena questa situazione con le auto qua giù sullo sfondo che poi sono costrette, forse, perché poi l'acqua arriva anche sulla via laterale. Quindi, insomma, la situazione qui doveva entrare in funzione poi una pompa che doveva garantire in qualche modo la sicurezza e quindi doveva evitare in qualche modo che si ripetessero situazioni come queste. Una pompa che forse ancora non è andata in funzione, evidentemente leggevo da qualche parte però questione di allaccio di corrente, ma poi cercheremo di capire e vi informeremo meglio sul perché ancora quella situazione è tale e quale a ieri, nonostante i lavori e gli investimenti. Schianto, jeep invade la corsia, motociclista, tampona un'auto, siamo sempre sulla pagina di Fano. Cronaca, finiscono in ospedale la donna al volante che subisce l'urto e il centauro. E poi, attenzione, perché si asfalta via Soncino a Fano, tratto chiuso oggi e domani, l'intervento fino a venerdì nel quartiere di Sant'Orso. Devastato il camping, la mimosa distrutte, sette roulotte e uno chalet. E questo è il bilancio dei vigili del fuoco intervenuti. La causa deve essere accertata, escluso il dolo, il ruolo, la vigilia della chiusura della struttura che si era adeguata alle norme antincendio. Poi da San Lorenzo in campo, ridotta la taria alle famiglie in cui nasce un bambino. Incendio al camping, danni per 40 mila euro, titola il resto del Carlino, mimosa, sopralluogo di polizia e vigili del fuoco, a Torretti di Fano, dove sabato notte sono andate a fuoco sei roulotte e due bungalow. Poi intervento della guardia costiera, Fosso, sei ore, troppo vento, catamarano, cappotta, due diportisti, soccorsi in mare. La pandemia, contagi ridotti di un terzo. Questa è una buona notizia, a dire il vero, rispetto a qualche settimana fa. Perché? Scendono anche i ricoveri per Covid. In una settimana l'incidenza dei nuovi positivi è scesa da 51,4 a 34. Dunque continua a scendere la curva dei contagi nelle Marche che chiudono la settimana con 511 nuovi positivi e un'incidenza di 34 casi ogni 100 mila residenti. Dunque basta confrontarle con quello di un anno fa e la situazione è certamente diversa. Intanto ci sono alcuni nodi da sciogliere, quarantene nelle classi. Oggi il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, si esprime sui giorni di isolamento. È in agenda oggi appunto questa decisione che è importante e fondamentale per non tornare di nuovo in didattica a distanza. Ora, sulla pagina invece 8 del Corriere Adriatico vi segnalo questo interessante articolo che porta la firma di Furlani. sul nuovo ospedale. Si accelera verso il sito di Case Bruciate. Questo è il titolo. In settimana ha previsto un incontro in regione tra Acquaroli e il Sindaco Ricci. Revoca per il project financing. Tre step, cioè tre momenti decisivi, tre appuntamenti, tre tappe per arrivare ad una riforma della sanità regionale. L'ipotesi di Marche Nord come azienda provinciale. Ovviamente nell'articolo dettagliato troverete un po' tutte le novità che riguarda questo nuovo ospedale. Noi ci limitiamo semplicemente a vedere questi tre step con questo grafico. Intanto il primo, la revoca del project financing della Renco per la costruzione di questo ospedale unico di Marche Nord da 612 posti letto a Muraglia con un ornere pubblico comprensivo dei canoni di disponibilità e servizi per 30 anni di circa un miliardo di euro. Secondo step, costruzione del nuovo ospedale di Pesero. Quindi niente più Muraglia, quello di Ceriscioli, tanto per capirci. Secondo step, costruzione del nuovo ospedale di Pesero non più da 612 posti ma da 400 posti letto. A Fanno resterà infatti il Santa Croce da 250 posti letto. Dove si farà non più a Muraglia, questo ospedale, ma a case bruciate per un investimento pubblico stimato di 140 milioni di euro. Vedete come calano i costi. Poi trasformazione, terzo step, trasformazione dell'azienda ospedaliera Marche Nord per la gestione di tutti gli ospedali e la sanità territoriale. Secondo l'ipotesi di una riorganizzazione regionale in 5 aziende sanitarie provinciali. Questa è più una cosa burocratica, ma comunque è interessante questo dato, cioè niente più Muraglia, ma case bruciate con un abbattimento dei costi notevole. Polizia penitenziaria, ancora proteste. Scatta l'astensione dal servizio mensa, casa circondariale, solo silenzio dopo il sit-in contro la carenza di organico e le aggressioni subite. Poi dalla pagina 10 del Corriere vi segnalo questa notizia che ha per tema il prolungamento della stagione estiva, anche se i temporali di queste ultime ore già ce l'hanno fatta mettere in archivio. Ma comunque restare ancora aperti non conviene, troppi vandali servono più controlli, coda d'estate ma stabilimenti chiusi, cardinali di CNA Balneari dice il Green Pass ha riportato i turisti. Al mare tutto l'anno, in Romagna funziona, Rimini come Riccione resteranno sempre fruibili le aree ludiche e anche quelle sportive. L'Honday, dalla pagina di Urbino, lotta e governo insieme, Oscar Gambini ci ha ascoltato, il capogruppo di Urbino e il Montefeltro parla dell'ordinanza sul coprifuoco e ora dice di sedersi al tavolo. Poi c'è la cronaca, dalla pagina di Urbino, doppio schianto, due centauri, motociclisti dunque portati a torrete con Icaro che è l'elicottero, l'eliambulanza, auto contro moto al sasso alle 9 di mattina e caduta fuori a Pecchio alle 12.30. Due notizie che troverete in questa pagina del Corriere. Invece, tornando sul Carlino, pagina 4, festa dai Binda, è questa famiglia che festeggia tre compleanni in un solo giorno, è un caso certamente singolare di papà, mamma e figlia nati tutti il 26 di settembre. Lui cuoco, lei titolare di un forno, unico rammarico, ovviamente gli anni che passano. Sono tra gli uomini più fortunati al mondo, bellissimo, dice il padre Andrea, sono tra gli uomini più fortunati al mondo, bellissimo quando ci riuniamo. E poi sotto, in marcia contro la leucemia, 4 chilometri di solidarietà, la camminata benefica, partita dalla palla e conclusa al porto, il presidente Sierra assieme ad altri 50. Poi addio a Marco Giampieretti, geo per tutti, per anni ai vertici del club nautico, si è spento all'età di 74 anni, ha organizzato tante gare di pesca e corsi di vela, il funerale oggi alle ore 15 nella chiesa parrocchia, scusate, alle ore 11, no non 15, alle ore 11 alla chiesa parrocchiale del porto di Pesaro. Poi Senigallia, la ciclovia adriatica passa in centro, sul lungomare Mameli non si può, approvata dall'aggiunto Livetto e una variante del tracciato, a ponente mancherebbero i parcheggi. E poi sotto, si schianta ubriaca, raffica di multe e denuncia, la giovane ha invaso la Iguola spartitraffico, sanzione pure per il compagno. E adesso diamo lo sguardo alle pagine sportive, velocemente, intanto il Fano, il Fano che ha dovuto interrompere la gara all'inizio, il 14esimo, l'arbitro si infortuna, il Fano dovrà rigiocare, a Pineto, un match era inviato, il 14esimo, il direttore di gara da Forfè per problemi al polpaccio, la data del recupero è da stabilire, le squadre poi hanno fatto allenamento, la delusione dell'allenatore del Fano, Gioffre, che ha detto, mi era già capitato tra i professionisti, cioè che un arbitro si infortunasse, ma serve un fischietto di riserva anche per la serie D. Poi, anche il Corriere, ovviamente, titola, l'arbitro si fa subito male, Castelnuovo, Fano sospesa, dopo 11 minuti dal, sul risultato di 0-0, un infortunio muscolare a Fantozzi di Civitavecchia, si rientra negli spogliatoi, il dottor Sanchiolo dice, dalla dinamica ho capito, che non avrebbe potuto continuare la gara, il quarto arbitro in serie D non è previsto, dunque la gara ricomincerà dal momento dello stop, e cosa dice mister Gioffre? era destino, ora speriamo di recuperarla presto. Intanto, destino anche, se vogliamo, Beffardo per la VL, però, nel basket, che ha perso, sì, 75, contro il Banco di Sardegna, a 73, ma, insomma, è stata una bella VL, Sassari ce la fa, ma vede le streghe, due liberi di Gentile danno il successo al Banco di Sardegna, la Carpegna ha prosciutto e nove ha tenuto il campo alla grande. E questo è il titolo e l'articolo sul Corriere, così come dal Corriere Sport prendiamo anche Iesina, Vigor Senigallia, che in eccellenza hanno pareggiato 2 a 2, la Iesina non muore mai, Vigor ripresa da 0,2 a 2 a 2. Ma voglio chiudere con questa notizia che ho selezionato dal Carlino Sport, pagina 15, è una cosa che non c'entra niente con noi perché comunque riguarda la Fortitudo e quindi la squadra di basket bolognese, però c'è dentro Repesia, che è il vecchio allenatore della squadra di basket pesarese, che a un certo punto ieri dopo la partita ha detto me ne vado e quindi shock Fortitudo, Repesia se ne va, Fratelli Gentili, Gentile la premiata ditta, Repesia che dice addio alla Fortitudo dove è ritornato era ritornato da pochi mesi dopo l'esperienza della passata stagione a Pesaro, lui che cosa ha detto? Mi fermo qua, non cambio decisione, prendendo tutti ovviamente contropiede, compreso lo stesso Club, lasciando intuire di non aver digerito l'espulsione nel finale che gli ha provocato anche, dice lui, un po' di tachicardia. Vedremo se è davvero una decisione definitiva la sua oppure ci ripenserà. Intanto noi ci salutiamo qui, ci diamo appuntamento stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia, vi auguro una buona giornata, arrivederci. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.